Ciao a tutti ragazzi sono Levin, bentornati sul mio canale, eccoci qua con un altro video su TheDyland2 Che bellezza, che bellezza Come sempre per me sono passati mille mila anni e quindi non mi ricordo assolutamente niente Ma vabbè, ok no, forse l'ultima volta abbiamo ammazzato il tizio corrotto, sì, in teoria Salve Vabbò, quindi è l'esaminata dell'infusione Ok, salve Oh, salve Ok, questo dovevo esaminare e? Ah, è questo E qualcos'altro Non ho visto niente, ragazzi Cassa, è questo? Ma che cassa Poi Mi scusi Ah, non c'era prima Ho sbaglio Tanto c'è il porco che fa casino Il porco sull'arma Non so se l'avete sentito Ma è come i 95 Ancora un altro Cosa serve? Cosa serve? Cosa serve? Cosa serve? Cosa serve? Quando si è iniziato a fare cose dolci mediche? Cosa serve? 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 Beckenbjör mi è stato necessario Oh, mi nome è Hope, by the way Wait, I know you I'm here, in the Ark with the others We will rebuild the human race Once the storm is passed But now, the Ark is being attacked They'll suck our souls dry Please, we need your help The pattern is clear You have the highest chance of success To do what exactly? No, Beck! Eh, lol Eh, non ci hanno detto un cazzo Ottimo Spettiamo che finisca di parlare Allora Ah, ok, no, possiamo andare Eh, non ci hanno detto un cazzo Eh, non ci hanno detto un cazzo No, regà, non ci credo Non ci credo Ma quindi No, eh, adesso Rosic è ancora di più Che ho perso i dati Però, regà Cioè, devo fare ancora storia Per sbloccare le altre missioni Nel DLC Ma che cazzo mi stai dicendo? Cristo santo E signori Finalmente Dopo mille e mille anni Sono passati quattro mesi Dalla parte di video Che avete visto prima E dallo scorso episodio Anche Dall'ultima volta L'ho registrato Da tutto Quattro mesi Siamo a giugno E ho registrato A febbraio L'ultima volta Questo gioco Fuck Vabbè Comunque Dovremmo essere arrivati Al punto in cui possiamo continuare Come vedete Abbiamo appena sbloccato Furia Nella storia principale E avevo il dubbio Che fosse proprio quello Il punto di svolta Diciamo Quindi vediamo Vediamo Intanto Magari facciamo fuori Questi zombetti Forse no Vabbè Moc Quindi andiamo abbastanza dritti Non vorrei perdermi Troppo in chiacchiere Dopo mille e mila anni Che sono riuscito a Eccoci Ok Ah Così What? Ok bro Ok Questo si distrugge Ah Oh salve Com'è T'ha posto? Quanto è divertente Quanto è divertente Ragazzi Cioè È pazzesco Questo devo tipo Palesium No apparentemente no C'è qualcosa da prendere Dobbiamo solo Oh fuck Immagino Non ci sia niente Da dotare O roba del genere Sarà solo da Aspettare che questi esplodano E passare Oh Armette Ok Salve Salve Oh C'è anche lei Ottimo Ok Siamo arrivati alla fine Di questo incubo Apparentemente Incubo Insomma Di questa Zona Con la furia E avevo proprio ragione Quindi avevo intuito bene Che il problema Era proprio quello La furia Tacci loro Però Zio pera Io ho perso i dati del gioco Come vi ho detto Anche nei primi episodi Sicuramente Quindi ho dovuto rifare Tre quarti Le storie Praticamente Vabbè Insomma Ok signori Dunque Tu che cazzo sei Resta vicino A mettitorio di furia Per ricaricare La furia Ah Molto figo Molto figo E divertente Ottimo Quindi io che devo fare Cioè questi si Per forza con la furia Ok va bene Ok Allora Attiviamo sta furia Tiung 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 Vabbè ma è Too easy Too easy With the The furias Adesso Ah Lo Giusto Eh Rega È Un botto Che non Da solo questo No Dagli Roma Ma la richiarechiamo Così Giusto Per Velocissima Quindi Figata Figata Attiva l'arca Distrugge l'infezione e salva l'arca Vabbè schiacciamo noi Adesso capire il cervello oscuro che soffoca l'arca Quello Quindi devo tipo entrare lì dentro E sparare lì con la palestra Ipotizzo Potevo sparare lì da qua Devo sparare lì da qua Ok Ok adesso da qua Vediamo Vabbè zombie chiaramente Mi pare anche abbastanza giusto Piaccia fra Così al volo proprio Sium Oh attenzione perché qua al piano di sopra C'è un altro luogo con la furia Qua un altro cosetto Sium Sium Che cazzo serviva a sto posto Ah salire qua Aspetta cervellino Ah wait Giustamente Giustamente Salve Quanta gente c'è Salve ragazzi Oppela Quanta gente Ok li ho un attimo sottovalutati Questi ragazzetti Devo essere onesto Sium Eh Ha sbattuto contro il muro Unlucky Vabbè Quindi veniamo a noi Salve Non è stato facile Sì diciamo che comunque essendo a tre quarti di storia Ecco Non è che siamo proprio scarsi ormai All'inizio abbastanza Come cazzo è quel tizio Ignoriamolo Vamo raga Un altro Eh sbagliato l'arma Comunque là Oh Liscio Ci sta Liscissimo Oh Oppela Se usiamo gli imposti Dardi Dai ogni tanto Ci sta Qua sopra ci sta un bauletto Con un'altra balestra blu Ok D'altro c'è Qua c'è un cervelletto Forse Sium Bat Tasterino di sicurezza Beh direi che dobbiamo andare qua sotto Ok Salve Lei cosa fa? Sto facendo un po' il coglione Devo essere onesto Però vabbè mi diverto Quindi sti cazzi Abbiamo le furia Sium Salve Ah Pensavo fosse infinita Alla Salve È morto comunque abbastanza agevolmente Lei Quindi andiamo Ok Questo forse è l'ultimo Sì direi l'ultimo Da dove ci scendo Come faccio? Devo buttarmi giù? Mi butto giù? Mi butto giù Oppela Non dovevo buttarmi giù Eh Credo Non sono sicuro però Qua? No Qua è da dove siamo arrivati Giusto O forse no Perché effettivamente Sti ascensori non c'erano Quindi sicuramente di qua Ok Andiamo Dagli Roma Che è Starca Starca mi ricorda sempre Rage Chi di voi ha giocato Rage? Bellissimo quel gioco Il 2 secondo me l'hanno rovinato Ho provato a giocarci Ma mi ha fatto vomitare L'ho droppato dopo pochissime ore Il primo però secondo me è spaziale Quindi Fai scoppiare i cervelli oscuri sull'arc Ancora Oh Quello là C'è una copertura Ipotizzo Ah ok C'era il buco a una certa Ecco perché Io provo un fucile a pompa E so come usarlo Ragazzi è finito il fucile a pompa Perché mi si sono sballata da armi raga Ok Ok bro Ok bro Zoom Ma mi si è risballata Dammi il pompa E oggi mi va a disare l'armiglia a fuoco Che ci volete fare Ma tu vuoi morire Ma quanto cazzo sudori Scusatemi Che deve queste allora Che cazzo Oppela Oppela E oppela Fatti tutti in teoria Sì Altri cervelli Diciamo che capisco Forse un po' Le critiche Che hanno fatto al gioco Nel senso che non è Poi Dal gioco al DLC Non è così Anche Come dire Come cazzo si dice Cioè più o meno Fai sempre le stesse robe Non mi viene il termine Per dire tutto ciò Però ok Oh cristo No Quanta cazzo Bello Tutti gli effetti di stato possibili e immaginabili Se li ha sto frantumato Allora poraccio Cioè poi va benissimo così eh Solo per dire Allora poraccio Oppela Sì Avrei fatto prima con le armi corpo a corpo Ma oggi Mi è preso così Che volevo dire Ecco Guarda Perché non hanno vita Ah Salve Ha attivato da sola Va bene Non sono dispiaciuto Ma perché sono tutti senza vita Questa cosa non la sto molto capendo Ok Oh salve 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 Poca Ok Mo 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 Che è sta arca quindi Sezione purificata Ripristina l'arca Ok Ok Non è prima che l'ho L'arca è salvata Oh bravo Vedo che siamo sulla stessa linea d'onda Lunghezza d'onda Scusate Oh 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 Cazzo in in terza persona L'arca è salvata Sì 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 È un felice Sì Ti vediamo Abbiamo un dono per te Approach 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 I suppose I am the second savior of the human race Not yet But in all possible futures At the crucial moment You are always there All of all evitations You You Uh not to be rude But is this safe fight No life No life can be safe Approach 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 Look this has been great at all But Thank you Thank you Holy feccan jesus Fuck Fuck To those Gobshot Really No Fuck me Ah ma Cioè è finita così Ma davvero Effettivamente sì Dicevano che durava tipo Tre ore Niente signori Apparentemente È veramente finito Effettivamente io Credo che Quattro cinque orette Giocandomelo con calma L'abbia fatte tutte Quindi effettivamente Sì Siamo lì Immaginiamo Non mancasse così tanto Non mi è chiaro Esattamente Cosa Ci abbia dato Cioè l'ultima scena Che ci ha Tipo impiantato Il Bobo Quella cosa Bianca Ipotizzavo fosse tipo Tipo un altro ramo di abilità Ma apparentemente Non è così E non saprei Semplicisi In modalità Furious Ah questo è molto figo Poi magari me le guardo io Ma non credo che Sia collegato Magari Io mi informo E magari per il prossimo DLC Perché sì Faremo ovviamente Anche il prossimo DLC Anche se Non so se effettivamente L'ho già sbloccato Il prossimo DLC Boh Ehm In caso vi farò sapere Comunque al prossimo episodio Niente Io quindi Spero che questo video Possa esservi piaciuto E anche questa piccola Breve Mini serie Ehm Però esco Perché se no Questi parlano Del DLC Di The Diamond 2 Come detto Appena riesco Vi porterò Anche l'altro DLC Che non ho Non sono minimamente informato Su quello Non so assolutamente Un cazzo Ma va bene Ci sta Anzi meglio E E niente Niente Quindi Like e commentino Quello del video E la serie Vi fossero piaciuti Iscrizione Importantissima E like e commentino Già detto E condivisione E campanellina Che aiutano sempre Noi ci vediamo Un prossimo video Di The Diamond E di altro Come detto Potrei portarvi Anche una prova Di X Defiant Vorrei portarvi Anche altro Qualora trovassi Un gioco Molto Veloce Sia da giocare Che da Editare Probabilmente Ve lo porterò Ecco E niente Noi ci vediamo Al prossimo video Vi ringrazio Per la visione Love you Ciao